ciao cari amici investitori come va io sono andrea e bentornati sul mio canale dove parliamo di investimenti finanze e criptovalute non possiamo negare che l'industria dei videogiochi esplosa in popolarità negli ultimi anni facendo alcuni dei più grandi passi avanti nei progressi tecnologici poi per noi vecchiati in cui prima eravamo seduti davanti una tv a tubo gatorico giocando super mario soprattutto ora l'industria dei videogiochi è un'industria multimiliardaria che guadagna più entrate rispetto alle industrie del cinema e della musica messe insieme poi secondo un recente rapporto di incendio l'industria dei giochi attualmente vale ben 300 miliardi di dollari con un fatturato di 90 miliardi di dollari solo nel 2020 e si prevede che guadagnerà 256 miliardi di dollari entrate all'anno entro il 2025 si stima che 2,7 miliardi di persone in tutto il mondo sono dei giocatori poi con gli eventi e-sporting come il torneo dota 2 che hanno raccolto circa 456 milioni di spettatori registrando più spettatori del super bowl e della coppa del mondo immagina ora dove può arrivare il futuro dei giochi ora che i giocatori sono in grado anche di guadagnare partecipando al gioco il famoso play to earn creato sulla blockchain guadagnando dei beni per poi essere convertiti in valore reale prima l'unico incentivo era il divertimento ora puoi anche guadagnare veramente del denaro mi ricordo da piccolo ma credo anche la maggior parte di voi della mia età quando le nostre animatici dicevano che i videogiochi sono una perdita di tempo e che non ti faranno mai guadagnare beh che dire sembra che la storia sia cambiata nel video di oggi ti voglio portare alcuni dei giochi migliori per guadagnare giochi già apprezzati da milioni di persone e ti dirò anche il mio punto di vista su dove penso che il futuro dei giochi play to earn possa andare poi come sempre voglio ricordarvi che se apprezzate questi contenuti lasciate un like e iscrivetevi al canale e di seguirmi su instagram il primo gioco che voglio parlarvi è sicuramente forse quello che è stato il leader di questo settore hex infinity hex infinity è un gioco basato su nft per guadagnare che è esploso sulla scena dei giochi nel 2021 e ha tirato circa 300 nuovi mila utenti sulla piattaforma ogni giorno i personaggi carini e adorabili di questo gioco sono stati ispirati dei personaggi del calibro di tipo del pokemon e del tamagotchi questi milioni di adorabili creature chiamate hexis possono essere allevati allenati e poi anche farli combattere gli hexis possono rientrare in una delle nuove categorie con ogni categoria che ha un punto di forza e una debolezza rispetto a un'altra categoria poi ogni hexi può avere sei parti del corpo che possono essere scelte da una selezione di oltre 500 opzioni disponibili ognuna di queste parti del corpo ha tre geni una dominante uno minore e uno recessivo minore questi geni giocheranno un ruolo quando arriverà il momento poi di farli accoppiare poiché una combinazione di geni verrà trasmessa alla parole gli hexis combattono in gruppi di tre e le loro battaglie possono essere testate contro altri giocatori nell'arena o contro giocatori non umani in modalità avventura poi quando questi piccoli hexis selvaggi sconfiggono un nemico il vincitore riceve una piccola quantità di token slp i smooth love potion questi token slp sono necessari per elevare gli hexis insieme ai token a xs per evitare un problema di sovrappopolazione barra inflazione c'è un limite al numero di hexis che possono essere elevati quel limite è 7 al momento che sto girando il video poi ovviamente ogni nuova parole che si crea richiede sempre più slp per riprodursi rispetto a quella precedente nell'aprile 2021 xinfinity emigrata dalla rete ethereum alla side chain ronin compatibile con ethereum creata per illudere le elevate tariffe del gas ethereum per questo ha avuto veramente un enorme successo il modello play to earn premia i giocatori per il loro tempo e impegno e nel caso di hex infinity i giocatori sono in grado di vendere qualsiasi hexis di cui non hanno bisogno sul mercato di hexis infinity oltre a vendere i loro token slp guadagnati dalla battaglia su exchange come binance i giocatori sono in grado di guadagnare dai 500 ai 1000 dollari al mese giocando il che è stata parte del motivo per cui questo gioco ha raggiunto l'adozione di massa in tutto il mondo così rapidamente però una cosa importante da notare che per iniziare dobbiamo pagare una cifra elevata per molti di noi in quanto se vogliamo iniziare a giocare dobbiamo acquistare tre axis dal mercato e naturalmente migliore l'axis e maggiore il costo una squadra forte di tre axis può costare fino a 2000 dollari però per rendere questo gioco accessibile a tutti il team di hex infinity ha trovato una soluzione sotto forma di una borsa di studio axis in cui manager di axis sono in grado di prestare questi piccoli mostri per i giocatori che non possono permettersi di acquistare i propri in cambio il manager di axis guadagna una parte di qualsiasi slp guadagnato dal giocatore ma forse uno degli sviluppi più emozionanti di axis infinity è quando entriamo nella loro terra chiamata lunasia il mondo virtuale in cui vivono la stessa terra di lunasia è in vendita con il team che sta ancora lavorando a sviluppi per l'espansione e per creare un mondo aperto di proprietà e gestito dai giocatori il team dietro axis prevede di implementarlo alla fine del 2021 barra inizio del 2022 poi come possiamo vedere sulla loro roadmap quindi ci sono molte cose eccitanti in arrivo per lunasia e i suoi axis residenti il secondo gioco basato sulla blockchain è crypto blaze crypto blaze è un altro gioco che esploso sulla scena con un enorme aumento di popolarità crypto blaze è un gioco di ruolo a turni che ha un modello di gioco simile a quello di axis infinity con le immagini di skirim è lo stile di combattimento di un risultato casuale simile a una slot machine la piattaforma crypto blaze è costruita sulla binance smart chain per garantire commissioni minime e una rapida eseguzione delle transazioni in cui i giocatori possono scambiare i token bnb con il token skill nel gioco utilizzando i peswap e utilizzare il loro token skill per acquistare il loro primo personaggio e arma gli nft creati casualmente ad ogni arma viene assegnato un elemento come fuoco terra acqua o fulmine ognuno con i propri punti di forza e di debolezza una volta che un personaggio è stato scelto i giocatori sono pronti a combattere ed è qui che guadagnano gettoni skill vincendo queste battaglie i token skill vinti in una battaglia possono essere utilizzati per personalizzare il guerriero e l'arma del giocatore forgiando armi migliori e creando un personaggio più forte consentendo quindi al giocatore di vincere più battaglie guadagnando più skill per potenziare ulteriormente il proprio personaggio aumentando anche le possibilità di vincere più battaglie e più gettoni e così via poiché ogni personaggio è un ftt unico i giocatori possono quindi scegliere poi di vendere i propri personaggi e armi sul mercato di crypto blaze i giocatori possono reclutare fino a 4 personaggi ed è a 1 a 3 armi della fucina del fabbro forgiare un'arma utilizza la meccanica rng per anonymizzare un risultato in modo che ogni nuovo giocatore abbia le stesse possibilità di essere dotato di un certo potere dell'arma anche le armi possono essere riforgiate combinando gli elementi e gli attributi di potere in nuove armi con l'arma originale che viene distrutta nel processo dopo che c'è il tuo guerriero e hai forgiato la tua arma sei pronto alla battaglia il combattimento è la fonte principale a per acquistare gli skill il combattimento consiste nel fatto che il giocatore seleziona il proprio personaggio e la propria arma quindi seleziona un nemico da una selezione casuale presentata automaticamente in base all'abilità del giocatore e una volta selezionato il nemico l'esito della battaglia viene deciso in base a una serie di variabili come le variabili di combattimento e la corrispondenza degli elementi poi puoi vedere le tue possibilità di successo annotate sotto il nemico della schermata di selezione del nemico una volta premuto poi il pulsante lotta viene pagata una piccola commissione sulla rete di bana smart chain se vinci guadagnerai esperienze riceverai una ricompensa in token skill proporzionata al tuo livello di potenza le ricompense si basano sul livello del tuo personaggio sull'arma utilizzata e sulla forza dell'avversario se poi perdi la battaglia il tuo personaggio non muore semplicemente puoi semplicemente continuare a combattere fino a quando l'energia del tuo personaggio non si esaurisce ogni personaggio inizia con 200 di energia con 40 energia necessaria per ogni combattimento l'energia si recupera in tempo reale e impiega 16 ore per ricaricarsi completamente inoltre è molto emozionante sapere che questo gioco è ancora attivamente in fase di sviluppo con molti miglioramenti all'orizzonte ed è stato elencato come uno dei primi dieci finalisti per il programma di accelerazione di binance i progetti che fanno parte del programma di accelerazione ricevono finanziamenti da binance per sviluppare ulteriormente il progetto e aiutano a garantire il successo futuro del progetto la tabella di marcia di crypto blaze menziona l'introduzione di crypto blaze kingdoms in cui i giocatori saranno in grado di possedere terreni e raccogliere profitti completando attività sul quella terra inoltre i sviluppatori hanno anche recentemente menzionato l'introduzione di un aspetto di ride del gioco anche se non si sa ancora molto al riguardo un altro gioco molto interessante è splinter lens è un gioco di carte collezionabili digitali che ha tratto giocatori appassionati di giochi di carte da duello come magic o irte stone questo gioco consente ai giocatori di raccogliere e costruire carte con diverse statistiche e funzioni e usarle per combattere con altri giocatori ciò che distingue davvero splinter's land dagli altri giochi di carte è che poiché utilizza la tecnologia blockchain e ogni carta il suo nft non fungible token i giocatori sono in grado di vedere esattamente quante carte esistono e persino vedere i record storici per ogni carta per iniziare a giocare a splinter's land ogni giocatore deve creare un account sulla piattaforma splinter's land una volta che hai un account il primo passo è acquistare il libro degli incantesimi degli evocatori questo libro costa soltanto 10 dollari e che può essere effettuato o con criptovalute o con paypal e una volta effettuato l'acquisto tutte le funzionalità del gioco come l'acquisto di carte e l'utilizzo di alcune funzionalità di gioco saranno rese disponibili i prossimi acquisti che puoi effettuare sono le buste di carte le terre le pozioni i dadi c'è un numero limitato di pacchetti di carte disponibili per ogni versione quindi alcuni giocatori acquistano pacchetti per tenerli semplicemente fino a quando non sono più disponibili quindi li rivendono ai nuovi arrivati nel gioco che hanno perso le versioni precedenti però tieni conto una cosa che non hai bisogno di acquistare carte direttamente ti verrà fornito un set base di carte ma ovviamente esiste anche qui un mercato dove è possibile comprare e scambiare le tue carte proprio come le carte collezionabili nel mondo reale che vengono vendute per cifre folli una volta che tu e le tue carte puoi iniziare la fase di battaglia i giocatori possono scegliere di esercitarsi o giocare partite classificate o non classificate contro altri giocatori le partite classificate danno al giocatore la possibilità di vincere cristalli dark energy che è una criptovaluta sul motore hive che può essere scambiato con altre criptovalute e vendute per fiat pensa a te tutte quelle ore passate a giocare a magic o a yugioh che io ne sono un fan e pensa che grazie a splinters land ora viene anche ripagato nella schermata di battaglia ci sono anche attività quotidiane che gli utenti possono completare per guadagnare ricompense extra come carte o dark energy crystal per aggiungere un alto grado di eccitazione al gioco man mano che poi i giocatori provvediscono e continuano a vincere più battaglie inizieranno anche ad aumentare i loro livelli di lega più alto il campionato raggiunto più difficili saranno i tuoi avversari e maggiori saranno anche le ricompense una volta che abbiamo premuto il pulsante in battaglia verrai abbinato a un avversario in base al tuo livello di abilità ed è qui che il gioco diventa divertente ogni giocatore riceverà una schermata di conto a loro vece in cui potrai vedere i mazzi recenti utilizzati dal tuo avversario e il loro livello di potenza in modo da portare a costruire il tuo mazzo e adattare la tua strategia di conseguenza è bene menzionare qui che i giocatori non partecipano effettivamente alla battaglia una volta scelte le carte la strategia è stata messa in atto da ciascun avversario il duello stesso viene giocato in formato di gioco automatico in cui ogni giocatore guarda il duello che si svolge questo gioco è davvero vincente per chiunque ami giochi di carte basati sulla strategia in particolare uno in cui le tue ricompense le vincite aumentano man mano che aumenti di grado e il gioco diventa più competitivo il futuro di questo gioco sembra promettente poiché l'adozione da parte degli utenti continua a crescere portando più persone nel gioco poi con ogni nuova stagione che porta nuove carte ricompense da vincere io ci sto già giocando e se siete interessati vi lascio anche il mio referral link qua sotto in descrizione l'ultimo gioco di questa lista è step hero step hero è un gioco di ruolo a tema fantasy nft costruito sulla rete by la smart chain e polygon che combina i giochi nft con l'ecosistema defy la trama qui è che c'è una guerra posta politica tra l'armata delle ombre guidata dallo stesso lucifero è un esercito del paradiso guidato dall'arcangelo gabriele i giocatori assumono il ruolo degli eroi con la loro missione di sconfiggere l'esercito dell'ombra in battaglia come con altri giochi nell'elenco i premi vengono pagati vincendo battaglie e puntando il token di gioco chiamato hero i premi vengono pagati sotto forma di token hero e i punti di gioco che possono essere utilizzati per aggiornare e acquistare personaggi o naturalmente scambiare altre criptovalute una delle caratteristiche uniche di questo gioco è che i personaggi possono essere acquistati esclusivamente tramite punti che possono essere generati puntando i token hero quindi quei token hero non possono essere sbloccati e venduti in qualsiasi momento restituendo poi al giocatore il suo investimento iniziale quindi fondamentalmente puntando i tuoi token hero puoi sbloccare gratuitamente questi nft di personaggi una volta generati abbastanza punti inoltre i possessori di token hero possono puntare il proprio saldo per guadagnare punti in game o puntare hero bnb lp per guadagnare token flip su pancake swap il che significa che c'è più di un'utilità per i possessori di token hero che offre ai giocatori una scelta di come vogliono utilizzare i propri token i giocatori possono utilizzare bnb o riscattare punti e flip per nft che possono essere scambiati sul mercato del gioco il marketplace è una piattaforma nft cross chain in cui gli utenti possono creare vendere e acquistare nft e include anche funzionalità come aste e programmi di affilazione dato che poi step hero è ancora nelle sue fasi iniziali non si sa ancora molto con certezza su come funzioneranno i meccanismi delle battaglie attualmente il mercato nft è completamente funzionante e i giocatori possono iniziare a puntare i propri token hero e guadagnare i punti necessari per acquistare i propri hero il team di step hero ha recentemente pubblicato un video dimostrativo che mostra come apriranno le battaglie all'interno del gioco poi i piani per implementare completamente la funzione di battaglia avranno luogo nel prossimo futuro con una data di rilascio anticipata nel quarto trimestre del 2021 e questo è come dovrebbe apparire una battaglia questo gioco ha già raccolto un enorme entusiasmo per un progetto che non è ancora stato ancora completamente lanciato raggiungendo già 140 mila follower su twitter e il volume di scambi per il token hero ha raggiunto i 3,5 milioni di dollari nelle ultime 24 ore dimostrano che c'è già molto interesse per questo progetto e il suo token hero nativo parte di queste citazioni deriva anche dal team e dalla tabella di marcia dietro il progetto il team è composto da un numero di persone di talento e di alto livello con molti anni di esperienza combinata che vanno dall'industria della criptovaluta al marketing al game design come il CEO Gabriel Wu che ha anche esperienza come partner con piattaforme giganti della tecnologia come amazon ebay facebook quindi c'è molta fiducia nel team dietro questo progetto e nella loro visione sostenibile a lungo termine per step hero finora il team raggiunti i traguardi della roadmap con il rilascio completo del gioco che dovrebbe essere lanciato nel quarto trimestre 2021 i giocatori possono aspettarsi che la versione demo e beta vengono rilasciate e testate prima del lancio del gioco completo poi con tutta l'anticipazione e l'eccitazione che sta dietro a questo gioco ci aspettiamo che il lancio ufficiale sia enorme seguendo la tendenza che si è visto con l'uscita di altri giochi nft play to earn beh posso dire che soltanto che se dieci anni fa qualcuno mi avesse detto che avrei vissuto in un futuro in cui guadagnare uno stipendio da vivere giocando ai videogiochi era possibile e persino realizzabile per la persona media avrei pensato che quella persona fosse pazza comunque sono davvero entusiasta di vedere dove va il futuro dei giochi play to earn in quanto io sono un appassionato da sempre bene con questo concludiamo questo video fatemi sapere voi cosa ne pensate dei videogiochi basati sulla blockchain dei videogiochi nft play to earn se li conoscevate ci avete già investito o conoscete altri giochi scrivetemi tutto qua sotto nei commenti ovviamente lasciate un bel mi piace se avete apprezzato e noi ci vediamo al prossimo video un buon investimento a tutti ciao